Buonasera, bello ero qua stamattina, bello ritrovarsi chi c'era e tutti quelli nuovi. Grazie per essere qui, una giornata di sole meraviglioso, quindi essere qui per me mi fate un doppio onore e quindi voglio approfittarne prima di cominciare per fare la stessa cosa l'ho fatta e lo dico di cuore a Mantua tre giorni fa, chi ha tenuto duro e organizzato e aperto i festival in questo periodo merita moltissimo, anche voi che ci venite, perché sappiamo, o meno poi figuriamoci, io sono vanitoso, sono giornalista, sono maschio, è una combinazione di vanità, sappiamo che avremmo potuto riempire tutti i posti e anche di più e abbiamo visto questo posto strapieno ma valeva anche per Piazza Castello a Mantua, ma non è questo il punto, non è che dobbiamo fare i record, dobbiamo tenere botte e andare avanti. Parlavo con colleghi stranieri, pochissimi che ci sono, una mia amica e collega indiana si chiama Tishani Doshi, che era ieri sera a Mantua, una scrittrice indiana e lei ha girato molto e mi diceva che solo in Italia Mantua, Camogli hanno provato a riaprire, in molti paesi è saltato come gli stadi di calcio, quando invece, lo state dimostrando, la situazione è diversa, basta organizzarsi, anzi, siccome so, ho visto la polizia locale intervenire gentilmente segnalando, io la mascherina non la posso tenere per motivi evidenti, ma di tenerla su naso e bocca, perché comunque siamo in tanti, quindi, ma se la teniamo siamo tutti tranquilli, non sarà lunghissimo, spero sia divertente, quindi grazie, e l'idea è questa qua, molto semplice, l'ho proposta ad Anko e gli era piaciuta molto, cioè, il book jukebox, vi ricordate il meno joel jukebox che uno sceglieva le canzoni? Ecco, questo vale per il libro, io ho scritto un libro, si chiama Neoitaliani, un manifesto, è uscito per Rizzoli l'8 di settembre, quindi da pochissimo, e con 50 motivi per essere italiani, poi ne parliamo, sono il frutto di 40 anni di meticolosa osservazione nazionale, sono una sfida, so che mi daranno del superficiale, dell'ingenuo, con quello che succede, parleremo anche di questo, ma io sono davvero convinto e più giro il mondo, più mi convinco, che ci sono, abbiamo dei punti di debolezza, ma i libri sui punti di debolezza, quanti ne abbiamo fatti tutti? Allora, proviamo a ragionare sui nostri punti di forza, che sono secondo me 50 e non sono banali, non perché li ho scritti io, non sono banali in sé, noi qualche volta li diamo per scontati. Io nel 2005 avevo scritto un libro, si chiama La testa degli italiani, è stato tradotto in diversi paesi, è stato tradotto in 14 lingue, io sono molto orgoglioso, negli Stati Uniti è diventato un best seller, si chiamava La bella figura è Phil Guy to the Italian Mind, una guida sul campo nella mente italiana, e ho venduto, ho messo a posto la casa in campagna con le royalties, no no, è importante dire le royalties, e infatti ho messo proprio un ricordo, perché ho venduto credo tra 250 e 300 mila euro, solo negli Stati Uniti, quindi questi sono, non sono, sapete, ha avuto un grande successo, dove, come, qua, ve l'ho detto. Allora, in Germania si chiama Überleben in Italien, ohne ferreirate, überfahren oder verhaftet zu werden. So che tutti sapete il tedesco, ma vuol dire, sopravvivere in Italia senza essere travolti da un automobile, überfahren, fidanzarsi o venire arrestati, che tra l'altro è molto indicativo di come i tedeschi ci vedono, è andato molto bene anche in Germania. Uno dei miei preferiti, è un titolo volteriano, è in Francia, pubblicato da Flammarion, si chiama Comment peut-on être italien? Cioè, come si può essere italiani? Ditecelo! Eccetera, eccetera, e ogni paese aveva il suo, quindi è stata una lezione per me per vedere. Allora, 15 anni dopo, ho detto, occorre un nuovo ritratto nazionale, ho cominciato nel 2019, alla fine non lo stavo scrivendo, scrivevo qualcosa, poi mollavo, ho detto, ma perché non ero convinto? Quello che è accaduto quest'anno, quindi il Covid, la pandemia, il lockdown, mi hanno convinto invece che era tempo, ma non mi hanno convinto così in maniera intellettuale, mi hanno proprio fatto venire la voglia, di nuovo, perché ho intuito una cosa, che è il punto di partenza, che una pandemia, come ogni grande crisi, come le guerre, come altre crisi, fanno venire fuori chi siamo? Fanno venire fuori la pancia e la verità, uno può bleffare per una settimana, per un mese, ma non attraverso una pandemia, prima, durante e dopo. Noi abbiamo vissuto due mesi di preoccupazione, due mesi di reclusione, due mesi di confusione e due mesi di illusione. Adesso aspettiamo di che, cara grazia, il governo ci dia anche quattro mesi di organizzazione, di cui avremo anche bisogno per spendere i soldi dell'Unione Europea. Ma questi mesi, io il libro l'ho chiuso il 31 luglio, quindi è un libro freschissimo, io mi auguravo, quando esco, parlerò di un recente passato prossimo, non immaginavo che potesse essere tanto di attualità, ma non è un instant book, è davvero l'aggiornamento di quel libro là, 2005, 2020, 15 anni dopo, chi siamo diventati? E ci tengo molto a questo libro, come potete immaginare, segna anche i miei 30 anni con la casa editrice Rizzoli, il mio primo libro è del 1990, si chiamava Inglesi, oggi è venuto, ah, Mario Calabresi mi dice, Beppe, lo leggevo da ragazzo inglesi, l'ho comprato e faceva il liceo, per farmi capire che lui è più giovane di me, è anche più bello, è più alto, ma tutto non si può avere, è anche molto bravo Mario. Allora, quindi 30 anni di libri, 18 anni, 18 libri in 30 anni, con la stessa casa editrice, sono monogamo, 25 anni di Corriere, 34 anni di Ortenzia, che non è qui, dopo un po' è stufa di me, e dice vai da solo, e quindi io sono monogomo nelle mie cose, e ho trovato la mia gioia, come se fosse 30 anni fa, l'editore che mi ha seguito moltissimo, quindi questo libro va come deve andare, come tutti i libri, hanno le loro storie, però noi abbiamo fatto veramente il possibile. Voglio che sia chiaro, e se lo capite dalla passione che ci sto mettendo, che non è un bel titolo, un bel titolo, perché neo-italiano è un bel titolo, con una magnifica copertina, c'è qualcuno che c'era, che sto parlando di questo libro, con una magnifica copertina, e dentro una raccolta d'articoli, no, no, ci ho lavorato veramente molto, e ci ho pensato veramente molto, su questa, la pandemia come macchina della verità, che poi ha tirato fuori alcune cose che sapevo, altre che sospettavo, e così via. Potrei andare avanti così per 40 minuti, non lo voglio fare, e ho pensato insieme ad Anko, che siccome a Camogli siete molto generosi, io sono tornato molte volte, è l'occasione giusta per fare un esperimento, magari è un disastro, però si prova per cambiare, di fare il book jukebox. Ci sono 50 motivi per essere italiani, d'accordo? E voi dovreste averli trovati sulle sedie, giusto? Allora, io ve ne leggo così, 10 adesso per darvi il ritmo, e quindi io parlo di quello che volete voi, come i jukebox, non di quello che voglio io, cioè i motivi sono molto diversi, parte riguarda la pandemia, parte riguarda il nostro carattere nazionale, le nostre abitudini alimentari, il nostro legame con le case o con i campi, o con tante altre cose, con le famiglie o con i più giovani. Uno alza la mano, siccome non posso far girare il microfono per motivi che conoscete, uno alza la mano e grida il numero, come a bingo. Anche questo dov'è d'anco? Non è male, the bingo book. The bingo book. Severnini, 22. Perché il nord e il sud disbisticciano come una vecchia coppia. Dov'è De Luca? Ecco, non c'è, ma De Luca è un buon tema. Qualcuno l'ha capito? Qualcuno l'ha capito? Con un momentino di ritardo, ma va bene comunque. Allora, così le risposte saranno più o meno lunghe, possibilmente a brevi, cosa ne facciamo molti. Non dovete argomentare. Se avete voglia di levare la mascherina e pronunciare anche il motivo, visto che avete, mi fa piacere. Se no lo leggo io. Va bene? Questo è il gioco di oggi. Allora, per darvi il ritmo, mi limito a leggere, potete girarmi i primi dieci? È molto bello, anche su nero. Dovete sapere che, questo è un merito dell'editore, la grafica, si chiama Francesca Leoneschi, ha fatto veramente, perché prende un elenco di 50 motivi e l'ha fatto diventare una cosa molto bella, che è nel risguardi del libro. Risguardi sono questi. Quindi quando uno prende il libro, c'è dentro, anche qua. Allora, però sono in bianco. Uno, perché quando tutti si aspettano che ci agitiamo restiamo calmi. Due, perché siamo fragili quando pensiamo di essere forti e viceversa. Tre, perché sappiamo essere seri, ma lo ammettiamo malvolentieri. Quattro, perché siamo imprevedibili se non diventiamo inaffidabili. Cinque, perché siamo capaci di bei gesti, sui buoni comportamenti stiamo lavorando. Sei, perché nel mondo ti guardano, in Italia ti vedono. Sette, perché troviamo eroi insospettabili. Otto, perché impariamo, volenti o nolenti, spesso nolenti. Nove, perché abbiamo visto quasi tutto e il resto lo immaginiamo. Dieci, perché arriva il momento in cui spegniamo il risentimento. Undici, perché siamo autocritici se non diventiamo autolesionisti. Dodici, perché molti parlano, alcuni ascoltano, ma tutti capiscono. Tredici, perché ogni tanto facciamo cose imbarazzanti, ma lo sappiamo. Quattordici, perché quando parliamo poco diciamo molto e viceversa. Quindi mi fermo qua. A voi. Ovviamente della pagina dopo. Non sono preparate. Però c'è un vantaggio nello scrivere i libri. Aspettate un attimo. C'è un vantaggio che uno sa cosa c'è dentro. Quindi se avete il sospetto che c'è qualcuno che secondo me non dicono, io non credo che sia mai accaduto, che magari i libri se li fanno scrivere. Ecco, guardate, questa è la prova. Allora, nell'ordine, no, no. Allora, io ho sentito un 35, giusto? Cominciamo col 35, così prendiamo un attimo il ritmo. Ma sarò breve, eh? Non vi sto. Perché sappiamo pensare con le mani e lavorare con i pensieri. Questo è un paese di grandissimi artigiani e che adorano la competenza. È un idraulico bravo, un notaio bravo, un geometra bravo, un professore bravo, un chi ha montato quest'affare qua, era orgoglioso di averla fatto nel modo giusto. Questa è una cosa che non è per niente ovvia in tanti altri paesi. Se voi prendete i libri standard degli stranieri sull'Italia, hanno due elementi. Uno, un idraulico sexy che sembra George Clooney, di cui la signora americana nevrotica che arriva da New York si innamora, convinto che ogni volta che entra l'idraulico sia uno strafigo, invece qualche volta si chiama Poldo, è un signore di 1,21 e grasso. Questo è un aspetto. Poi cenano sul tavolo, la cartovaglia a quadri, con l'olivo, con il vino bianco, questo è un lato. E l'altro è l'artigiano. C'è un'infatuazione degli stranieri in Italia per i nostri artigiani e anche per i professionisti quelli bravi, perché l'artigianato io lo intendo in senso vasto, incredibile e giustificato. È uscito un libro di una mia collega finlandese che si chiama La mia Italia, è uscito qualche giorno fa, si chiama Ella Kanninen, è una finlandese che adora l'Italia, è un personaggio televisivo, una conduttrice televisiva, lei addirittura ha pubblicato le foto degli artigiani con cui ha lavorato, il falegname, l'idraulico e non penso per l'aspetto George Clooney, perché dice sono di una bravura pazzesca, chi ha vissuto in Inghilterra e ha avuto a che fare con degli artigiani, viene in Italia e quando arriva l'idraulico fa la ola. Allora perché è così importante? Perché sappiamo pensare con le mani a lavorare con i pensieri, perché un paese che ama la competenza come noi e la riconosce non poteva cascare nella trappola in cui abbiamo rischiato di cadere negli ultimi anni di derisione della competenza. La competenza cosa vuol dire? Basta essere onesti e simpatici, ve lo ricordate? Oddio i competenti italiani hanno fatto di tutto per me per rendersi antipatici, a cominciare dalla mia categoria. Giornalisti, accademici, politici, economisti, industriali, medici, hanno fatto di tutto con un tono e uno tra un incompetente pasticcione simpatico e un competente odioso ha dei dubbi e qualche volta sceglie l'incompetente simpatico. Quindi la colpa non è soltanto da una parte, è da due parti, perché i competenti hanno fatto di tutto per rendersi antipatici. Però diciamo la verità, a parte questo aspetto, la competenza noi la riconosciamo così, siamo troppo svegli e quindi l'idea di un paese che si sia fatto affascinare dall'idea che conta solo la simpatia e l'onestà, che è fondamentale, ma non basta. Perché non faccio l'esempio per costruire un ponte, io in Liguria evito di fare metafore con i ponti per motivi che potete immaginare perché è troppo serio, ma la verità è che ognuno deve fare bene il suo lavoro e quella è una cosa che gli italiani quasi tutti sanno fare con orgoglio e ci viene riconosciuta. Io avevo un papà, molti racconti nel libro, alcuni sono saggi, alcuni sono racconti, io ho usato non un tono ma proprio un metodo narrativo, perché secondo me è una storia, qualche volta è una storia di famiglia anche, era altrettanto chiara che tante spiegazioni teoriche. Mio padre, notaio a crema, figlio di agricoltori, grande competenza agricola perché veniamo da cinque secoli di agricoltori, ogni generazione un Severnini è autorizzato a fare una cosa diversa, io ho fatto giornalista, abbiamo avuto arcipreti, cancellieri del tribunale, procuratori del re, profumiere, di tutto, ma uno per generazione. Mio figlio fa l'imprenditore agricolo, mio nipote è laureato in agraria, noi siamo attirati dalla terra, infatti c'è uno dei motivi che riguarda quello dopo, i campi non hanno mai l'aria annoiata. Allora, mio padre, notaio, ha vissuto quasi cent'anni, ha tra l'altro da bimbo neonato, ha preso l'influenza spagnola appunto, era il settimo di sette figli, hanno detto, e lui non solo è sopravvissuto, non solo ha vissuto cent'anni, ma ha fatto la guerra, è imbarcato in marina, eccetera, ma ci ha anche spiegato, io ho visto la resilienza di questa strepitosa generazione nata nella primo terzo del ventesimo secolo, che ragazzi, questi ne hanno visti di tutti i colori, noi ci spaventiamo facilmente, ma quelli. Mio padre, notaio a crema, quindi ha studiato, giurisprudenza, il concorso a notaio. Mio padre aveva una grandissima passione per il mattone, non come speculazione, comprava le case, le rivendeva, le faceva, le ristrutturava, distribuiva figli e nipoti, lui il suo, il cantiere era nel suo calmante, usciva dall'ufficio e andava nel cantiere e parlava con i capomastri, con i muratori, che lo rispettavano molto, che capivano, mio padre aveva capito una roba semplice, che quei muri, come i suoi roggi, ti erano destinati a durare e li trattava con un rispetto, da pari, e questi quando arrivavano a notare, non erano un rompiscatole, il pensionato, l'umarel del cantiere, era un signore che voleva, che voleva ragionare con loro e capire di più e sapere e questo era molto bello. Il suo idolo era un capomastro cremasso che si chiamava Santo Piloni. Io pensavo che fosse una sorta di beatificazione in vita, era talmente bravo a costruire, l'hanno chiamato Santo Piloni, invece no, Santo di nome, Piloni di cognome, che è come se io mi chiamassi, non so, giusto aggettivo di cognome. Santo Piloni, un personaggio, me lo ricordo da bambino, era spesso in casa nostra, con la camicia macchiata, i pantaloni blu, con i segni della calce, lui e mio padre erano, flirtavano, la figlia che è alla mia età, ma le due, guarda, tuo padre adorava mio padre, ma mio padre considerava tuo padre l'interlocutore più cosa. E poi, ma tu sai una cosa di tuo padre, sai cosa faceva in cantiere, quando andava a trovare? Raccoglieva i chiodi storti, li portava a casa e li aggiustava, li raddrizzava sulla morsa. Io ho saputo pochi mesi fa, grazie al libro, perché tutta la mia infanzia era piena di chiodi storti. Ho detto, ma ragazzi, siamo l'unica famiglia d'Italia dove i chiodi non sono dritti, erano chiodi recuperati. Ma non è che il notaio Severnini voleva risparmiare sui chiodi. Primo, in campagna non si butta niente, ed era un'educazione anche per noi, e secondo era un modo, ragazzi, questo si recupera. E mio padre, tra le citazioni che faceva a proposito di competenza, vedete, perché sappiamo pensare con le mani, questo, come tantissimi artigiani, pensano con le mani. Un bravo idraulico, un bravo falegnamo, un bravo muratore, pensa prima di fare le cose. Questa è la qualità. Questo mio padre cita sempre come uno dei grandi motti della sua che ci ha passato. Una volta c'era un giovane apprendista che stava mettendo apposta il muretto nel nostro giardino, mi ricordo anche quale, si avvicina Santo Piloni con di fianco mio padre, lo guarda un po', c'era un errore, e gli dice, col cervello, mia col martello, che in dialetto cremasco vuol dire col cervello, non col martello, e mio padre col cervello, mia col martello, era una vale per tantissime professioni, io lo scolpirei soprattutto i ministeri, col cervello, mia col martello. Prima c'erano 74 tutti insieme, adesso ho finito? Cos'è il 3? Alzate la mano, il 3, perché sappiamo essere seri, ma lo ammettiamo malvolentieri. Il lockdown che abbiamo fatto è stato una prova di serietà, perché non è stata un'operazione corale, i cori sono più una roba da tedeschi, dal Nabucco in poi i cori, non ci vengono benissimo. Allora, è stata la somma di 60 milioni di decisioni individuali, guardate che gli scemotti con i gilet bianchi, i brunarancioni, i cretinetti che si credono intellettuali, che dicono, è vietato, metta la mascherina, non contano niente. Questa gente esiste perché noi continuiamo a parlare di loro sui giornali e in televisione, ma non rappresentano niente e questa è una roba che dobbiamo metterci in testa e continuiamo a ripetere. È un errore che noi continuiamo a fare, diamo spazio a quelli. Quindi non venitemi a dire, ma robetta, 60 milioni vuol dire, no, levatene 100 mila, rimangono in 59 punto. Noi ci siamo comportati in maniera seria. Non ve lo dice uno che si è sempre chiuso a crema. Sì, sono stato a crema quei due mesi, ma ho fatto una vita in giro, scrivo per il New York Times, sento i miei amici inglesi, americani, indiani, cinese, mi dicono, siete stati i più bravi. Quando NPA, la radio americana, mi ha chiamato a metà marzo dicendo Beppe, il lockdown, pare che gli italiani siano molto disciplinati. Ma che sorpresa con la battutina, ma gli italiani disciplinati proprio. E gli ho detto, ragazzi, calma e gesso. Primo, da noi c'è un servizio sanitario nazionale in cui non ti chiedono, non ti fanno domande prima e non ti spediscono fatture dopo. Giusto per gradire. E questo è un altro, e uno dei motivi è anche questo, perché abbiamo il servizio sanitario nazionale, abbiamo i medici di famiglia, di cui se volete poi parliamo. Secondo, gli ho detto, per quanto i nostri governanti salvolta lasciano desiderare, quello lì ce l'avete voi. E in bocca al lupo. E purtroppo ho visto bene, durante una pandemia, avere un presidente come il presidente degli Stati Uniti. Vabbè. Allora, siamo stati seri. Perché? Non un coro, ma la somma di decisioni individuali. Qual è la caratteristica di noi italiani? Che vogliamo decidere se ogni regola si applica al nostro caso particolare e a quella situazione particolare. ogni regola morale, stradale, fiscale, non esiste il limite di velocità a 50. Tu devi decidere se, viste le condizioni di traffico generali, tu la cosa, se quel 50 è logico. Davanti a un rosso del semaforo, lo raccontavo nell'altro libro, gli italiani, gli svizzeri si fermano. Tum. Gli italiani, che tipo di rosso sarà? Un rosso, c'era rosso relativo, abbiamo pure la canzone, in cui si vede chi sta arrivando. È un rosso per le scuole, arrivano i bambini, ma sono le 8 del mattino, sono le 4 del mattino, le mezzanotte, i bambini non vanno a scuola, quindi perché devo fermarmi davanti a un semaforo rosso per dei bambini che non ci sono, passo, eccetera, eccetera. Non parliamo del mondo fiscale in cui veramente l'interpretazione autentica è molto variegata. Cosa vuol dire? Che nel momento in cui, attraverso questa operazione, peraltro discutibile per molti versi, che io odio, gli italiani si convincono che quella regola ha senso, la applicano. Voi non state mettendo la mascherina sul naso perché c'è, forse non c'è più, e se no li saluto, la polizia locale di Camogli che se no vi è gentilmente, vi dice, guardi la alzi anche sul naso. Lo fate perché vi siete convinti che è più sicuro per voi e per gli altri. Sul naso signora, anche lei è però. D'accordo, e questo è quello che abbiamo fatto durante il lockdown. Siamo stati, a nostro modo, che è una roba del tutto normale, non la facciamo, questo è proprio escluso. Siamo stati seri, probabilmente i più bravi del mondo, quello che è successo dopo, se volete ne parliamo. Però ci scoccia, ammetto. Quando dico questo, non è che la gente dice applauso, sì, respiro. Ragazzi, stavolta siamo stati, no, mi contestano, perché essere seri, temiamoci, rovini la reputazione. Noi piace essere i giamburrasca del mondo. Alzate la mano. Eh? Che numero? Sei? Perché nel mondo ti guardano, in Italia ti vedono. sono due verbi diversi. D'accordo? Cosa vuol dire? Questa frase me la racconta, me la è la citazione esatta di una lettrice sudafricana, mi ricordo ancora dove, all'università di St. Andrews in Scozia, presentavo proprio la testa degli italiani e lei si alza a un certo punto, tra l'altro una ragazza molto bella, cosa che se fossi in America non si può più dire, si alza una ragazza molto bella. Perché? Perché era una ragazza, virgola, molto bella. Se voi dite c'era Beppe Severnini, parlava molto, non era molto bello. Ci sta. Allora, la ragazza era molto bella. Si alza e dice, I'm gonna marry an Italian. Sposo un italiano. Io l'ho guardata e allora si poteva, adesso non lo farei più in università anglosasso, e gli ho detto, non vedo problemi, informi la moglie magari nel caso perché scelga, sono sui 30 milioni e poi mi faccia sapere. Lei ignora il mio remark, va avanti e fa. E sa perché? Allora, ve lo dico in italiano. Perché io sono sudafricana, ho vissuto in Israele, ho vissuto in Germania, ho studiato un po' in Francia, in questo momento sono in Gran Bretagna e mi ha detto, nel mondo ti guardano. E io lì stavo per dire un'altra stupida, non l'ho detta. E fa, in Italia ti vedono. Ed è un riassunto perfetto. Vuol dire che noi siamo curiosi del prossimo. Il rapporto con la polizia in America, al di là delle brutalità gravissime che sono accadute e che stanno generando questo che noi sottovalutiamo, però nelle città americane, mentre stiamo parlando, ci sono estremisti di destra con le arme semi-automatiche e estremisti dall'altra parte, perché anche Black Lives Matter ha i suoi estremisti con altre arme semi-automatiche, sta accadendo. Allora, in Italia, armi semi-automatiche, erano i bambini nei negozi di giocattoli, sono passate pure di moda. È normale? È una cosa di cui... Ragazzi, solo questo dovrebbe essere un altro, ma c'è dei motivi per essere orgogliosi di essere italiani. Non c'è... c'è stata violenza politica. I più anziani di noi se la ricordano. Fa schifo. L'abbiamo conosciuta. Nella guerra civile l'abbiamo conosciuta durante il terrorismo. Fa schifo. E anche i partiti più cacciarosi che ci sono, e ne abbiamo un paio, piuttosto co... E ne abbiamo tre, adesso uno si è calmato, una volta che gli ha messo la cravatta e la macchina, gli altri due sono ancora... Però anche a questi va riconosciuto che non c'è la minaccia nella pratica della violenza. C'è qualche volta una sorta di guardare dall'altra parte, che è molto grave. È successo anche con la vicenda di Colleferro, un po', di glissare su queste cose. Però, onestamente, quando io vedi una manifestazione in Italia, la violenza... In America, stiamo parlando di armi semi-automatiche. In Francia, hanno sfasciato il centro della città per mesi di fila. Allora, non è che noi siamo i più bravi, però vogliamo dire che in Italia tutto questo... Guardate che è drammatico, eh? Vivere in questo tipo di tensione. Allora, in Italia non è successo. Tornando al... I rapporti con la polizia, dicevo. Se voi... Ne ho parlato con ufficiali dei carabinieri, con poliziotti, con questori, che mi raccontano chi ha fatto servizio. Dice, guarda, quelli che mi conoscono di più, Beppe, dovresti essere lì. Io fermo uno con una macchina sportiva, c'è 50 all'ora, sta andando a 100. Lo fermo, io immagino che si... Mi chieda, mi scusi, ha ragione, mi dia la molta, non lo faccio più. No, parte una discussione filosofica sul fatto che lui non poteva, doveva, aveva fretta, c'era un motivo, sempre motivi gravissimi, e che non c'era un rilevatore, l'occhio umano non può vedere un oggetto in movimento o altro. Cioè, dice, questa dovevo dargli una cattedra di fisica teorica, però dovevo anche arrestarlo insieme. Però c'è un aspetto, e molti anche dei rapporti con i vigili urbani, con la polizia locale, quando scende in strada, perché a Milano non è che la vediamo moltissimo, la polizia vede, il poliziotto Luigi Bianchi vede il signor Aldo Rossi, e sono due individui, non sono un numero di matricola, è un signore. Io ho avuto a che fare con la polizia americana, tu sei, è inquietante, perché tu sei una fattispecie che può presentare alcuni pericoli, può avere un'arma in macchina, quindi ha le mani sul cofano, degli italiani che si sono messi nei guai, perché hanno detto, documenti, mettono la mano così e ti trovi una pistola puntata addosso. Allora, il fatto che ti vedono vuol dire che in Italia quasi sempre i rapporti, anche i più difficili, sono partito di lì, quindi tra un poliziotto per strada e un cittadino, sono comunque diversi. quando tu, anche sul lavoro, magari uno ti vede, nota che hai la pettinatura in un certo modo, la cravatta giusta, la camicia fuori dai pantaloni, ma ti vedono. Siamo un paese attento e curioso, quindi questo fatto di essere visti, guardate che è veramente libero. Voi credete che gli stranieri vengono, questo ovviamente è un posto meraviglioso, e vengono per il mare, vengono per le case, vengono per la cucina, vengono perché è uno dei posti più belli d'Italia, ma gli stranieri vengono in Italia anche per quella cosa che vi ho detto, perché è la sensazione di essere delle persone viste dal negoziante, dal vigile, dall'albergatore, perché i camerieri italiani sono i più bravi del mondo? Noi stiamo, grazie ad Anco, al Cenobbio dei Dogi, riferisci che glielo ho detto, hanno dei camerieri italiani, sono dei professionisti incredibili, hanno a che fare con un pubblico diversissimo, persone come noi di passaggio, turisti stranieri, di varie nazionalità, famiglie, sono dei professionisti e ognuno non hanno un modo di fare, ogni volta cambiano a seconda, hanno un signore russo che ha una certa capacità di spesa, il giornalista italiano, l'imprenditore inglese con la famiglia, semplicemente si compone, perché li vedono, perché sono bravi a fare il loro mestiere, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, la risposta era un po' lunga, ma credetemi, perché nel mondo ti guardano e in Italia ti vedono. Applauso per noi. Non per me, ma per noi. La signora si è alzata con grande decisione, tiri sulla mascherina, 17, perché i nostri figli vedono il futuro e ogni tanto ce lo spiegano. Questo è uno dei capitoli che mi piacciono di più, ve la faccio breve, perché se no non... A proposito, i libri, siccome non potevamo fare il firma copia, ne ho fermate una settantina e li ho lasciati alla libreria che è qui sulla passeggiata. C'è scritto Beppe Severnini, Camoglie 2020, e su uno su quattro c'è anche il mio autoritratto, così avevamo tempo. Quindi domani o stasera i libri ci sono, purtroppo, però sono firmati. Dicevo, allora, e voglio che lo leggiate, perché se no... Però i nostri... Faccio un ragionamento sull'innovazione in questo numero 17. L'innovazione è una delle parole più abusate, direi che forse negli anni 10 è stata la parola più abusata, è stata governance negli anni 90, etica, forse negli anni 90, governance negli anni 2000. Ogni decennio c'ha la parola del... Che poi alla fine è talmente utilizzata che perde senso. E la parola degli anni 10 è stata innovazione. Innovazione è una bella cosa, però l'innovazione, cerco di raccontarla, gli italiani nuovi sono naturalmente portati all'innovazione. A noi sembra impossibile, io parlo con i miei coetanei, che imparare a usare i registratori BASF a cassetta e a rotolare con la matita le cose, fosse una grande innovazione, ma per mio padre era una grande novità. Per mio padre, classe 1917, è stata una grande novità il telecomando di Sky, prendeva gli appunti lui. Cioè lui traduce, gli diceva papà fai così e lui scriveva bisogna, prima, premere, e quindi le sue istruzioni erano molto più complicate del telecomando. Perché per lui era una sfida. L'iPad invece gli veniva facile, quello era intuitivo, d'accordo? Però ogni generazione, arriva un punto e c'è un'innovazione in cui una generazione dice basta ho dato. Io mi rendo conto che alcune novità sono arrivato qua. Per adesso seguo tutto, però già TikTok ha messo e non concesso che sia un'innovazione, ho detto anche no. E chi ci può aiutare in questo senso? I nostri figli e i nostri nipoti. Il lockdown è stato un grande esercizio collettivo. Il nostro figlio Antonio, imprenditore agricolo, ha anche un ristorante, è stato con noi, non l'ho mai visto così tanto. Mio figlio è grande, grosso, un bellissimo ragazzo tatuato, io lo chiamo Calzedonia, ha un tatuaggio, l'ho mandato in Australia, l'ho mandato in Inghilterra a lavorare, lui piaceva il mondo della cucina, infatti ha aperto un ristorante e va benissimo con tutti i ragazzi giovani. L'ho mandato in Inghilterra, Federico è tornato con scritto, un tatuaggio con scritto Viva la Vida, Coldplay. L'ho mandato in Sardegna sulla Caviglia, il periplo della Sardegna. L'ho mandato in Australia un tatuaggio maori. E gli ho detto non è che una volta puoi tornare a portare una palla di neve di quelle che si erano, come tutti. Però ha smesso. Però il tatuaggio maori è veramente, pare che sia un capolavoro. Io quando ho viaggiato andavo molto d'accordo perché non fa il giornalista che è un grande vantaggio per tutti, per lui soprattutto e andiamo davvero d'accordo. Il rapporto con la mamma, con il papà è molto diverso. Non c'è competizione, non c'è tutta quella... Tutta quella che fa a me va bene. Lui deve fare le sue cose. In America quel tatuaggio l'ho messo nel libro prima. Mi ricordo nelle stazioni degli autobus Greyhound a Baton Rouge in Louisiana alle 4 del mattino dove ragazzi io vedevo serial killer dappertutto. Cioè non è un posto tranquillizzante. Le stazioni degli Greyhound in America dall'alba non sono posti tranquillizzanti. Venivano dei ceffi, si fermavano e dicevano Man, where did you do that? E poi Man, this is cool. 5 con mio figlio. Era l'attrazione di tutti i balordi della Louisiana che dicevano questo... Venivano a fare le foto col telefono. Allora, mi toccava ringraziare mio figlio per... Allora, il mio figlio è stato con noi due mesi. Oltre alla gioia dei genitori, inconfessabile, molte di noi hanno visto i figli più in quei due mesi che negli otto anni precedenti, ma non si poteva dire. nostro figlio ci ha sistemato il soundbar dal televisore col bluetooth, ci ha sistemato Nextflix e tutto il resto, ha cambiato il frigorifero, ha detto Antonio, questo frigorifero ha dieci anni, bisogna cambiarlo. Lui è un ristorante e l'ha capito subito. Ci ha rivoluzionato la vita. Mia moglie è anche molto brava in queste cose, ha imparato e è bene. Però, ho usato un esempio banale, ma l'innovazione è una delle occasioni, una delle più grandi occasioni in cui le generazioni possono collaborare. Questo paese andrà avanti quando le generazioni capiranno che sono complementari e non rivali. Questo vale anche per molti miei colleghi che sembrano terrorizzati dal venire salire nella propria professore dei giovani bravi. Io no. Proprio per niente. Perché con me, Indro Montanelli, me e Marco che travaglio che sarà qui e tanti altri di noi ci ha lasciato crescere, ci ha lanciato ci ha incoraggiato, poi siamo venuti fuori anche molti diversi, come è giusto che sia. Allora, sul lavoro, un trentenne, un sessantenne su un luogo di lavoro sono alleati naturali. Il trentenne ha conoscenze in campo di innovazione, di velocità, di intuizione e di resilienza e anche di forza che noi non abbiamo. Ma magari a 60 anni ha una capacità di sintesi o anche una resilienza non fisica ma psicologica che può essere superiore. Allora, se tu sei un imprenditore, un direttore, un professore, e hai la fortuna di poter lavorare con gente di 30 anni, alzati alla mattina e ringrazia. Perché? Perché questo è il modo in cui le nazioni vanno avanti. Quindi, ecco perché mi piace molto il 17, perché i nostri figli vedono il futuro e ogni tanto ce lo spiegano. Un figlio, categoria figli. Eh? 16? Perché molti di noi sono stati fortunati e se ne rendono conto. Allora, questa è una spiegazione non è adattissima alla tua età, semplicemente perché alla tua età di questo tema non so quanto ti importi, però tu hai dei genitori, hai avuto dei nonni e se ti fai raccontare hai avuto dei bisnonni. La generazione, credo a occhio dei tuoi nonni barra bisnonni, quella che è nata nell'inizio del secolo scorso, era una generazione veramente forte, lo dicevo prima, che ha conosciuto prove durissime, ha sbagliato, ha pagato, ne ha fatte... Allora, la nostra generazione, quella nata, i baby boomers, quelli nati fra il 46, fine della guerra del 66. Primo, siamo stati la prima generazione che non ha conosciuto la guerra, non è andata in guerra, non ha visto partire dei familiari in guerra, ma non in Italia, la prima generazione della storia dell'umanità in Occidente, noi francesi, tedeschi, nati in quel periodo, quindi baby boomers europei, perché per gli americani il Vietnam era un po' diverso, ma i baby boomers europei, anche grazie all'Unione Europea, non a caso al Trattato di Roma nel 57, guarda caso e non è un caso, abbiamo avuto, siamo stati in pace, abbiamo avuto la prima generazione, quindi quella nata alla fine degli anni 40, primi anni 50, ha aperto la strada anche dal punto di vista di contestazione dell'autorità, l'ha fatto in maniera velleitaria, l'ha fatta all'inizio, l'ha fatta in maniera pasticciata, ma intanto c'era l'idea che se tu avevi un ruolo dovevi meritartelo e noi abbiamo questo senso pancianti autoritario, è rimasto un po' a tutti, qualche volta eccessivo, ha rotto, tirato giù le barricate sessuali, questa poi te la fai spiegare in un altro, è assolutamente così, c'è il bimbo, poi dopo, tanto si, però la verità è che la nostra generazione, vedo che qua siamo in parecchi, noi abbiamo vissuto veramente l'età dell'oro tra la liberazione sessuale e l'orrendo arrivo dell'AIDS, cioè noi abbiamo avuto degli anni settanta da questo punto di vista, wow, non vado in particolari per i minori, ma non è che facessimo cose tremende, ma semplicemente c'era un appoggio, una serenità, noi siamo stati, se la generazione dei nostri genitori è stata the greatest generation, come la chiamano gli americani, quella nata nel primo terzo del ventesimo secolo, quella che ha fatto la seconda guerra mondiale, hanno proprio questo nome, the greatest generation, la generazione più grande, noi siamo stati the luckiest generation, la generazione che ha avuto un culo, tecnicamente, la più fortunata e potrei andare avanti, quando abbiamo cominciato a lavorare non ci offrivano complimenti, ci offrivano contratti, noi avevamo l'abusivato, mi ricordo, cioè in Italia perfino il lavoro abusivo viene sistematizzato in una categoria, ai Beppe hai fatto l'abusivato, no Marco comincio fra due giorni, l'abusivato era una specie di impegno che tu stavi in un giornale lavoravi otto mesi gratis, però poi sapevi se non erano otto erano dieci che arrivava il contratto di praticante, l'assunzione, compagnia bella, questa era la normalità, io parlo del mio mondo, ma vale per tutti i mondi, vale anche per l'università, e per tanti altri, e vale per... adesso c'è un altro punto e non voglio fermarmi perché secondo me i ragazzi guadagnano troppo poco, non è possibile che il più grande obiettivo sia un lavoro a tempo indeterminato a 1200 euro al mese, è così, e cara grazia se ce l'hanno, però c'è qualche cosa di profondamente sbagliato, profondamente sbagliato, perché con quello stipendio non ti formi una famiglia, non compri una casa, non può essere, poi qualcosa deve succedere, abbiamo creato un'economia sbilanciata e lo sappiamo tutti con delle disuguaglianze che ogni tanto esplodono da qualche parte, in Italia siccome ci sono i genitori e i nonni e per adesso riescono a tutire magari la casa, i nuovi arrivati sono anche meno numericamente, quindi di case libere ce ne sono, quindi molti trentenni italiani abitano nella casa della zia o della nonna che non c'è più, per alcune cose siamo riusciti a tutirle, ma non può essere un metodo per un paese vivere su quello che lascia o lascia indietro la generazione prima, non funziona così, ecco perché secondo me siamo stati, molti di noi sono stati fortunati come me e se ne rendono conto e lo dicono e quindi essere consapevoli della propria fortuna dovrebbe spingerci a essi meno egoisti e questo vuol dire molto, vuol dire anche appena, certo che se un'azienda in difficoltà non può fare beneficenza, però guardate che nel mondo digitale c'è tutta questa questo mito del lavoro scatenato delle 15 ore al giorno anche negli Stati Uniti dappertutto lavorare, 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 alcuni capi ancora adesso usano lo smart working cominciano a chiamarti al mattino alle 8 al telefono e finirsi su un zoom alle 22 non può essere e poi con l'approvazione delle vittime in America c'è un hashtag che si chiama hustle hustler quindi i ragazzi vanno pagati poco lavorano 15 ore escono strisciando e dicono cazzo oggi 15 ore hashtag hustle bravo furbo eccetera eccetera in questo giro visto che usciamo mi auguro che stiamo uscendo comunque stiamo attraversando un anno assolutamente particolare speriamo unico che non accada di nuovo io credo che comunque l'esperienza serva e forse si può cercare di aiutare tutta questa nuova generazione ogni volta non esiste una regola assoluta tutti dicono cosa faremo? lei non si prova se ognuno di noi si facesse l'esame di coscienza e considerato cosa è successo quest'anno dicessi ok siamo stati una generazione incredibilmente fortunata possiamo restituire qualcosa la somma di questi piccoli atti di buona volontà secondo me io non sono un buonista odio la parola buonista la parola buonista è stata inventata dai cattivi per giustificare i propri egoismi esiste la buona volontà esiste anche la generosità e se uno non capisce arrivato alla mia età io ho passato i 60 anni che è arrivato il momento di restituire questa frase l'ho messa anche in uno spettacolo teatrale se uno arrivato a 60 anni non capisce che è arrivato il momento di cominciare a restituire qualcosa non è un egoista è tecnicamente un cretino proviamo a accelerare darò risposte brevi prego numero 5 5 5 bisogna cambiare se no lo cerco qua perché siamo capaci di bei gesti sui buoni comportamenti stiamo lavorando il bel gesto nota bene c'è bello è un concetto estetico buon comportamento è un concetto etico d'accordo noi siamo fortissimi sui bei gesti perché la bella figura è un altro concetto etico un italiano che fa un bel gesto è è una forma sofisticatissima di auto esibizionismo non ha neanche bisogno di testimoni un italiano che fa un bel gesto si sdoppia e mentre tu come ti chiami? Sara è di cognome? leva la mascherina pizzimenti? ok Sara fai un bel gesto e pizzimenti che sei sempre tu si stacca da terra guarda in basso e dice cazzo Sara che brava scende e ti fa e ti fa i complimenti da sola che va benissimo perché è una forma di esibizionismo altruistico molto sofisticato io quando porto una valigia a un'anziana signora mi faccio i complimenti per tutta la scala poi spesso alla guardo è più giovane di me ma a parte questo e lei mi dice no non faccio così lei che è anziano le porto io lo zainetto allora il buon comportamento non è la successione o la somma aritmetica di tanti bei gesti è un'altra cosa è interiorizzare i bei gesti capire cosa vogliono dire da dove vengono e assumere dei buoni comportamenti vuol dire maturare come mi è venuta bene prego eh? diciotto ma mettete pure tutta la schermata non c'è bisogno di stringerli poi li cito io diciotto diciotto è rimasto perché ci divertiamo senza essere sbronzi cioè questo io quando sono negli Stati Uniti io bevo sempre un bicchiere di vino ai pasti mio padre arrivato alla vigilia dei cent'anni sosteneva che l'acqua durante i pasti arrugginisse e beveva tantissimo durante la giornata ma non durante i pasti secondo me una pasta al pesto visto che siamo qua con l'aranciata o la coca cola o anche con l'acqua minerale è contro la mia religione non so cosa dire no no allora questo fa di me un'alcolizzazione no io non bevo superalcolici ma il vino mi piace sono molto tra l'altro mio figlio che è mia grande gioia è un po' specializzato in vino e piace anche alla loro il mio figlio nel 92 anche alla loro generazione allora quando sono in America io anche se non c'ho tanta voglia a pranzo lunch chiedo sempre un bicchiere di vino quando sono con altri americani e sento c'è un attimo di silenzio e gli sguardi sono oh oh abbiamo un alcolizzato al tavolo e io li aspetto perché è una vittoria facile ma mi diverto gli dico signori vino bianco stasera chi si butta sul primo Martini sul secondo Martini e magari sul terzo Martini curando che il sole scenda oltre l'orizzonte perché si è dato un'idea che solo dopo il tramonto puoi cominciare a bere il Martini io o voi voi stasera chi si beve un'intera bottiglia perché a cena si può e non ha neanche voglia io o voi voi dopo cena chi si beve voi chi torna in albergo e si butta con la testa dentro il mini bar dell'albergo per bere io o voi voi chi dovremmo portare a casa io o voi voi quindi zitti per favore e di solito allora li vedi sollevati tutti yes glass of wine for me too eccetera e li abbiamo convertiti allora la nuova generazione quella di mio figlio secondo me è cambiato un po' questo l'educazione alcolica per cui l'alcol non è il demonio e che quindi un ragazzino se in casa si chiede di assaggiare il vino si fa assaggiare e questo è già una bella educazione vuol dire che levi il proibito i ragazzi inglesi o americani si buttano e comprano quando non potrebbero poi si sbronzano poi stanno male perché fanno una cosa proibita tu gli levi la soddisfazione a 16 anni vuoi assaggiare il vino li chiamano toxic parents ma va là toxic parents allora la nuova generazione secondo me e non solo secondo me stanno bevendo troppo c'è l'idea del sbronzarsi come epilogo della serata eravamo fuori questa roba per la nostra generazione e quella subito dopo era insolita se non adesso comincio a sentirla perché questa cultura che poi è nord europea è anglosassone sta arrivando però secondo me abbiamo ancora come i ciclisti prima eravamo staccati in testa adesso il gruppo si avvicina ma c'è un margine ancora che possiamo mantenere perché secondo me in questo capitolo c'è tutta la storia dell'aperitivo di come si è imposto negli anni all'inizio negli anni 20 il fascismo detestava i cocktail perché avevano un nome inglese il fascismo impose il nome polibibita al cocktail figuriamoci infatti fallì nessuno voleva più perché uno negli anni 1940 ordinava una polibibita non trovava più la fidanzata ovviamente e infatti appena la guerra è finita il fascismo è crollato il cocktail sono tornati alla grande la generazione dei miei genitori il cocktail era la mia generazione preferiva birra viaggi musica sesso e quindi il cocktail non è stato tanto della nostra generazione adesso è ripreso però intorno all'aperitivo c'è una cultura italiana che abbiamo esportato nel mondo è un lungo capitolo che racconta con orgoglio di come insomma l'aperitivo è una parte culturale importante da dove è venuto come è fatto quindi qualche volta c'è la diciamo l'aspetto così non dico la morale qualche volta c'è proprio un racconto in questo che è dov'è che è ecco perché ci divertiamo senza essere sbronzi parla proprio della nostra cultura alcolica che esiste per fortuna 28 e 11 perché conosciamo il confine tra gentilezza e molestia e talvolta lo superiamo perché ecco non è che i motivi allora ma lo conosciamo che forse è un aggravante però lo conosciamo e in Italia non è ancora arrivato questo sistema di sospetto metodico che c'è altrove ci sono persone in Italia e ambienti alcuni se la sono cavata abbastanza in questa cosa e purtroppo i comportamenti gli atteggiamenti e le frasi e i commenti le mani le cose che possiamo che facciamo adesso rispetto a dieci anni fa sono completamente cambiate lo ammetto io se ho una collega più giovane evito di mettere la mano sulla spalla perché non lo so se non è proprio una mia amica o ci conosciamo molto bene perché questa cosa qua ma perché siamo arrivati a questa area di sospetto perché c'erano degli continui eccessi e abusi quindi il Me Too non è nato perché voi donne un giorno vi siete svegliate male è nato perché c'era una situazione di sudditanza e di imposizione costante in alcuni ambienti il cinema è celebre ma tanti altri imbarazzante in Italia di nuovo abbiamo fatto alcuni passi avanti per fortuna ma non c'è questo tipo di di terrore generalizzato io ho insegnato negli Stati Uniti mi è andato un malloppo così sulle cose da fare non fare con gli studenti o studentesse perché non sapendo le mie inclinazioni sessuali prendevano gli studenti e studentesse ma è una roba la porta aperta le cose qua non fare riferimenti non guardare troppo fisso negli occhi sfiorare neanche lontano cioè questo sto parlando di fine anni 2000 è peggiorata da allora allora negli Stati Uniti questa cosa è diventata secondo me esagerata noi e voi donne ancora di più e vi fa un conoscete il confine tra gentilezza e molestia lo conosciamo anche noi purtroppo alcuni uomini fingono di non conoscerlo lo conoscono lo vedono e lo oltrepassano e quindi meritano quello poi che gli succede però anche lì siamo messi meglio di tanti altri posti vi do la mia parola di uno che ha girato molto ultimo punto 33 33 eh ma il servizio sanitario ai medici di famiglia è vasto e non abbiamo il tempo parlo di quello che è successo parlo del fatto per esempio che i soldi del MES guardate che sono soldi è un interesse bassissimo gli altri paesi li stanno prendendo è una superstizione io lo chiamo MES mostro evocato da Salvini basta non è vero e da Di Maio prendiamo questi soldi e ricostruiamo il sistema dei medici di famiglia io sono nipote mio nonno era medico di famiglia mio zio era medico di famiglia tanti amici sono medici di famiglia prima di scrivere questo ho parlato con un sacco di persone in questa pandemia lo sappiamo tutti sono stati mandati allo sbaraglio senza neanche gli strumenti poi state andate là poi state a casa poi fate il consulto telefonico poi mandate direttamente in ospedale idiozia si è scoperto dopo cioè il sistema dei medici di famiglia va ripensato siccome è dei liberi professionisti convenzionati quando è ormai chiaro che negli ospedali sono fondamentali ma non deve essere la porta d'accesso al servizio sanitario nazionale non è il pronto soccorso è il medico di famiglia e questa cosa qui è una cosa che ci fa onore come dicevo affiniamo sul 50 perché sorridiamo nonostante tutto me l'ha chiesto perché perché non tutto funziona spesso ci arrabbiamo ci sono cose terribili in questi giorni ne stiamo vedendo però ci sono i 49 motivi precedenti e poi questo non siamo una nazione perennemente arrabbiato se tu giri e chi viaggia chi gira lo sa siamo una nazione che ha ancora la capacità di sorridere e poi c'è quel nonostante tutto che c'è un pochino di amarezza però è il motivo e tra l'altro dice perché se prenderete il libro mentre gli altri sono diverse pagine ogni motivo questo è una riga 50 perché sorridiamo nonostante tutto e poi c'è scritto e non è sempre facile ammettiamolo grazie Beppe Severnini grazie per il book to box abbiamo approfittato della generosità e dell'affetto di Beppe quest'anno l'abbiamo fatto tre incontri la rassegna stampa ieri mattina con caro figlio oggi con Edoardo Garrone e Venangio Postiglione adesso con il libro grazie Beppe Severnini grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti